Proviamo presso il mattatoio intercomunale di Partinico una struttura che alle spalle è una storia un po' travagliata ma a detta dei responsabili, dei tecnici della città metropolitana i lavori sono a buon punto e presto verranno completati. Ho fatto visita alla sede della provincia del Libero Consorzio proprio in settimana e ho avuto un'interlocuzione accorata con il RUP, con l'ingegnere Caruso. L'ingegnere Caruso in effetti ha predisposto tutti gli atti per portare avanti alcune istanze. Il tema è quello che preoccupa di più e che tuttavia auspicavamo che gli attori del sistema in qualche modo accelerassero sulle opere ad esempio di urbanizzazione. Purtroppo oggi con Stato non è cambiato nulla mi viene in mente un'immagine di Gattopardiana a memoria dove probabilmente forse ci si mette più lì con il manuale Cencelli alla ricerca di una quadra dei numeri che non si trovano, non si trova il modo per aggiustare la strada, si rimane schiacciati all'interno di un consiglio comunale che purtroppo non è più specchio di quella coalizione che ha voluto con forza l'amministrazione. Il risultato? Tutto rimane bloccato e noi dell'Udc non ce lo possiamo permettere. Abbiamo messo tutti la faccia nell'organizzare e nel portare a compimento l'elezione di questo sindaco. Ognuno di noi ci ha creduto, ha investito del tempo, ha investito delle proprie capacità e soprattutto ha cercato di coinvolgere quante più persone possibili. Abbiamo delle responsabilità nei confronti del Comune, oggi noi vigileremo così come abbiamo fatto in questi sei mesi ma con ancora maggiore responsabilità perché a questo punto già l'abbiamo fatto all'interno di quella che poteva essere quel periodo all'interno dell'Aggiunta e l'abbiamo fatto con tanto di responsabilità e dovizia di particolare e continueremo a farlo. Noi qua a Partinico abbiamo la possibilità, la potenzialità di mettere in atto un mattatoio che darebbe tanto lavoro, tanto respiro ai nostri giovani ma purtroppo è bloccato e le motivazioni non si riescono a capire perché è un'opera che dovrebbe essere già finita da diversi anni e chiaramente bisogna accelerare, bisogna farsi sentire, bisogna essere presenti e bisogna sposare questa battaglia con tutta l'energia che noi possiamo mettere in atto, noi come partito, come UDC ma anche come cittadini che amiamo questo territorio. Come vedete noi del gruppo UDC siamo uniti e quindi portiamo avanti sempre le nostre idee, le nostre battaglie una di queste è quella del mattatoio, già siamo stati qua ad agosto e vediamo che la situazione non è cambiata.